Buongiorno Re Carlo! E grazie per l'intervista. Come fai a mantenere così bello il tuo giardino? Oh, poteva! Ah, già con me in mente, se avresti da te la sua paghera chiesa settimana che se la tua garia ti dà un amato, mi fa proprio un bel servizio. Perché? Abbiamo domandato a tre o quattro amici che conosci e poi anche a William, ma al penne su? Il suo re non mi tratta come puer marter. Ho capito? Ma nemmeno Henry? Ecco, l'ho saputo. In questo giardino, subito dopo l'incoronazione, siete venuti a festeggiare con tanti invitati. Infine, troppo! Non siete riusciti a fare però il grande rinfresco che era in programma. Poteva per forza! La mia gioia sedei? Allora, quello degli anni è stato sfortunato. Perché è stato il bruminato che stai ora. Eh, pensate che abbiamo preparato i cipani e Camilla li ha già mandato ai fatti. Poteva! Dopo l'ho stato inviato a Giobè e l'un amico dice a Camilla che ci sono due bari a Bifergot, ma non si è riadetti nel bar e mi ha abitato solo perché anche i tuoi scarpe sono più piccoli. Dopo l'ho stato giardino sbagliato a me perché ho trovato l'ho trovato da fare l'idea di cavo e amagliare l'erba. E invece di amagliare l'erba e mi ha amagliato i tuoi fogli di piante più belle che ho detto. Per me parlare di tutti i cipani che sono stagliati a casa perché mi ha lasciato un'ampia strada. Ma parliamo ora della cerimonia della tua incoronazione che secondo me è stato un evento memorabile non soltanto per te, ma non vorrei esagerare, ma per tutto il mondo, oltre che per il Regno Unito. Ah, che lotter! Ma sarà stata anche una bella funzione a me ti dico che sia con te quando l'hai finita. Però la domanda è anche a Camilla. No, poi lei che la fa più. È vero che invece della carrozza avresti preferito prendere la macchina? Ah, faccio, eh. Ma come? Tu sei il re e gli altri ti impongono di usare la carrozza. Cosa? Com'è possibile? Ma chi non ti è con me? Ah, 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 ah. Ah, pote. Non è che l'angheria in su da salta su se che è la fisso della ur. Dopo, per carità, maggior rispetto e tradizione, ma per me che c'è l'ho inventata e poi l'andaggia ci ha subito. Ci ha dovuto. Tutto si gioca, ma alla mia età sta sentando la carrozza e mi hanno detto che ho usato una giapa e si aveva più di ogni grattante. Dopo io la dico la coruna e me l'ho messo e mi ha dato la schiena. Oltre, al di dopo, ando dal massaggiador e mi controlla e mi arda e mi fa. E se che al tassassé sbassaggio il collo e triei. Per piacere, ho messo più che l'arteccioc. Ora vorrei chiederti, Harry e Meghan, nei tuoi confronti, come si stanno comportando? Anche nei confronti del resto della famiglia reale. So che è una domanda un po' delicata. Madonna me. Harry l'ha sempre restato in una crapabusa, ma adesso l'ha metto in sua dalla mia espusa. E stavo in America, te lo dico a me. È vero che, prima di andare in America, Harry aveva chiesto di poter avere una casa in Italia. Certo. E che lì a te da me. Non ma che alla sua forno abbia sia il mio posto e la mia ilida. Harry voleva una casa alle cinque terre. Io non so dove tu l'abbia comprata, ma, a quanto pare, non erano le cinque terre. Eh, ma si è infumato per le cinque terre. Praticamente, lì a vargigia, la rotonda, tu c'è per la via che la sua e la cadapia. E tu c'è per una striscia, tu arrivi in fondo. Tu fai quattro pane e tu sei arrivato. Capito? che vuole? Ah, qui c'è anche una pianta di mirtilli. Ah, su mio cosa c'è? Sta attento a mangiare giù. Il mio cattegno è il maldeter. Il mio cattegno è il maldeter. Il mio cattegno è il maldeter.